Noi siamo qui per ricordare le vittime e le infortuni sul lavoro, che purtroppo aumentano sempre di più. Per il settantesimo anno, anche a Pistoia è stata celebrata la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Alla sala assemblearia della Fondazione FS, nell'area del deposito rotabili storici della stazione ferroviaria, l'ANMIL ha proposto l'evento, trasmesso anche via internet nel rispetto delle norme anti-Covid, ribadendo l'urgenza di misure e di interventi per aumentare la sicurezza sul lavoro. I numeri degli infortuni e delle morti nei primi otto mesi del 2020, quindi anche comprensivi del periodo del lockdown, documentano in Italia ed in Toscana una crescita del numero delle persone che hanno perso la vita lavorando, un incremento di oltre il 20%, mentre la flessione della totalità degli infortuni è scesa mediamente del 24,6% a livello regionale, mentre nel resto del paese è stata di poco meno del 23. La provincia di Pistoia è stata quella dove la variazione in negativo è stata più bassa, del 9%. Siamo passati da 1.871 incidenti del 2019 a poco più di 1.700 di quest'anno. Noi vogliamo, al di fuori della festa, dare delle indicazioni forti alle istituzioni. Vogliamo chiedere se loro sono d'accordo con noi, insieme a noi, a firmare un protocollo d'intesa, un protocollo che porti alla sicurezza e maggiore, cioè alzando l'asta della sicurezza e della prevenzione sul posto di lavoro, perché purtroppo ancora oggi, nonostante che il lavoro sia meno, gli incidenti, gli infortuni sono in aumento. Grazie. 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 Grazie.